E così si giocherà questa sera a gara 2 della finale Scudetto tra Luparenza e Pescara. La svolta ieri pomeriggio, quando si è tenuto un incontro in comune tra l'assessore Giuliano Diodati e il presidente del Pescara Calcio a 5, Danilo Iannascoli. È stata proprio la richiesta del comune, in un certo senso della città, a convincere Iannascoli a far partire la squadra a destinazione Veneto ieri pomeriggio. Dopo aver perso gara 1 tra le Muramiche, ai Biancazzurri è il difficile compito di vincere almeno una delle due gare in programma al Palasind di Bassano de Grappa. Questa sera è venerdì sera per riportare la serie a Pescara, mercoledì prossimo. Non sarà facile, dopo alcune giornate senza allenamenti e con una squadra falcidiata da infortuni e soprattutto squalifiche. Mancheranno Canal, Caputo, Borruto e Pulvirenti, condizioni non ottimali per Salas e Leggero. Non ci sarà Fulvio Colini in panchina, squalificato per due giornate. Al timone il vice Marzio Forte. La decisione di giocare comunque non restituisce serenità agli Annascoli. Dopo aver vinto anche la Coppa Italia, ogni giorno abbiamo avuto delle sentenze particolari. Canal è squalificato, quattro anni che non si è mai visto, su una richiesta invece iniziale di un anno. La Lazio che ha avuto partita vinta a Tavolino dopo che in seconda la FIGC aveva deciso invece che la partita era vinta a noi, con intervento diretto da parte della divisione. Adesso questo agguato che ci è stato preparato in questa partita che abbiamo giocato in casa, in una formula play-off che era già da cambiare perché non dà nessun vantaggio alla squadra prima classificata. E adesso ci ritroviamo a giocare la seconda e terza partita, meno mati, nella mente, nello spirito e nel numero dei giocatori disponibili. Luparenze senza Tobbe, fermato fino a novembre, squalificato l'allenatore Marin, anche egli per due giornate. Così il presidente Zarattini. La mia preoccupazione di oggi è che i giocatori non pensino alle parole che vengono dette extracampo, e cioè rimangono concentrati, come lo hanno fatto per tutta la stagione, sul campo, sulla partita, su mercoledì, non parlo neanche di venerdì, su mercoledì perché alla fine è il campo che decide chi vincerà lo scudetto.